Un'altra convincente prestazione casalinga per la Rugby Udine Union del Friuli Venezia Giulia. Dopo quelli conquistati la settimana scorsa, i ragazzi di coach Edmond hanno guadagnato altri 5 punti in classifica grazie alla vittoria per 41-5 con la amatori rugby Badia. L'infortunio nel prepartita del pilone Morosanu, sostituito in campo dall'inizio da Mazzini, non ha destabilizzato più di tanto i primi 8 uomini della squadra di casa, che nonostante qualche sofferenza di troppo in mischia chiusa, hanno retto bene l'urto con il pesante pacchetto avversario, riuscendo a fornire buoni palloni alla linea dei tre quarti, apparsa ancora una volta a tratti quasi imprendibile per gli avversari. La Rugby Union è partita forte, è andata in meta già al nono con Robuschi e poi con Propersi al tredicesimo. Al ventesimo un calcio di punizione dello stesso Robuschi ha permesso agli udinesi di allungare sul 15-0. Nella ripresa, la Rugby Udine è ripartita di nuovo di slancio e al quarto minuto Gerussi ha segnato in bandierina. Proprio Gerussi a fine partita è stato definito il man of the match. Oggi abbiamo portato a casa una bella vittoria, 41-5, specialmente grazie a come l'abbiamo preparata in settimana. La mischia ha lavorato molto bene in difesa, con grande aggressività sui punti d'incontro, è molto dura nel placaggio, spesso raddoppiandolo e ai tre quarti abbiamo fatto quello che facciamo sempre, ovvero fissare la difesa, attaccare gli spazi. Questo ci ha permesso di segnare molte mete. Negli ultimi 20 minuti di gioco Edmond ha dato spazio a tutta la panchina e Badia ne ha approfittato per segnare la meta della bandiera. In classifica la Rugby Udine Union FWG consolida il secondo posto a quota 27 punti, mentre alle sue spalle i ruggers Tarvisium superano in trasferta il rugby casale, agganciando al terzo posto proprio i trevigiani con 21 punti, rimanendo in corsa per la qualificazione alla pool promozione che garantisce la salvezza anticipata. I giochi sono quindi ancora apertissimi e la Rugby Udine Union FWG dovrà cercare di fare risultato domenica prossima in casa della capolista Val Sugana, per non rischiare di giocarsi il tutto per tutto a gennaio nell'ultima partita del girone.